Un piccolo testizio di maniversione invece, se volete segnare, ma avete mai parlo, avete il telefonino, potete parlare con me, vi mostro due o tre siti attraverso i quali questo micro discorso di questa mattina può essere continuato da voi attraverso la applicazione. Il primo sito che vi trusco è l'entra, con forzietti in modo resistente, e l'ituto di è il sito, il sito che abbiamo di più etica, vi faccio parte, che è uno degli siti più affermati in Italia, anche per quanto riguarda l'attività con le scuole. Abbiamo per primi in Italia, c'è un problema di collezione, vediamo se lo ricordiamo, se lo ricordiamo di un tecnico, di un istituto che ha cominciato in Italia, in fin di convegni di bioetica per la scuola italiana, qui avete una leggenda, eccetera. Se andate alla mappa della bioetica, voi vi rendete conto di quante migliaia di cose ormai ci sono, sono quelle di pesa, mentre la collezione avviene, vi ricordo della bioetica, è un tentativo che in Italia, che anche nel mondo interno, liquidicamente, comincia il 1970, prima di questa data, non esiste questa disciplina, ed esiste nella scelta medica-oncologica, guarda caso, negli Stati Uniti, nel momento in cui i ricercatori di oncologia, i medici, si rendono conto che la medicina ha fatto solo la medicina e non tiene conto di fatti culturali, simbolici. Ognuno di noi, a prima vista, alla domanda, tu con quale o quello del corpo mangi? Risponderete, la bocca. Invece no, noi mangiamo la pente. Poi mangiamo anche con la bocca. È una domanda della domanda. Ma la bocca è solo morte che serve per mangiare? No, serve per passare. Uno di gli altri appetiti, sensuali, che gli umani combino per primi. Bene, è un stesso organo che serve a mangiare, è un organo che serve a baciare. In più. È anche l'organo che serve a sorridere. Cioè, la bocca è un luogo simbolico. È un luogo reale, in cui avviene la masticazione, in cui passa di cibi, ma è anche un luogo simbolico. Perché, niente di me, non ce n'abbiamo un servizio così e così. Noi spegniamo qui in capi di danaro, resognuno, molto valore. I dentisti. E i dentisti, in Italia, sono quei dentisti particolari che, buscando il sistema sanitario nazionale, sono unità prevalentemente privati. L' dentista, di solito, siamo disposti a pagare. Perché l'effetto è, il servizio così è così, la bocca così è così. Una ragazza, l'anno scorso, vi è tredito, forse è difficilità della religioetica, che noi richiamo a vedere ma non c'è il portatore. Forse, questa domanda partengono a una cultura giovanile particolare, voglio una protesi dentaria dei miei due canini. I due canini, una protesi che ti faccia i canini bambini. Cosa è un problema nazionale? Perché voleva una protesi per i canini da bambina. La sua cultura diceva, il sorriso è più bello e il bacio è più bello se i miei due canini sono la bambina. Chi si domandò a lui, esperti di bioetica, da parte del Ministero della Salute, che dobbiamo fare? Dobbiamo concedere a questa sedicenne la possibilità di questa protesi? la mia risposta con questa? Sì, a due condizioni. Prima condizione, che ha distrutto il libertà. Perché? Nel Servizio Sanitario Nazionale questa è un'opcia rispetto alle patologie della loro. E due, purché la protesi sia mobile e rimovibile. Perché a 18 anni cambia cultura, vuole baciare con dei nanini più piccoli? Gli dobbiamo invitare. Quindi a due condizioni di origini si può fare. Perché? Calabocca è un uomo simbolico, viene gentile all'oglio di lui come ci pare e piace. Le labbra? Non sapete le labbra maschi e femmine nelle mani degli dermatologi estetici come vengono strutturate e rimuovendo le labbra? Non solo quando ci truttiamo maschi e femmine con gli osseri, ma proprio nelle mani degli dermatologi. Dico maschi e femmine perché ci sono molti maschi che ormai usano rossette, uscitalate, particolari, come gli allambarati. Non sono più dei maschi che non sono più dei maschi. Andiamo con le mani degli dermatologi estetici spesso. E allora, il primo livello del mio discorso, la bioetica, che è un sacco di cose che vi vedrete in istituto bioetica.org. Adesso va la mia cartellina e vi lancio tre piccole biopostinive. Ecco, la bioetica è un sacco di cose, tra queste cose pure per la bioetica dell'alimentazione. La seconda del mio discorso, il quarto da tra poco, vi presenta un titolo di una delle mie collate di università di bioetica, che dice un titolo ciò che mangia. E' un po' ciò che mangiamo, un po' ciò che mangiamo, un po' ciò che mangiamo. E' la vostra posta. Funziona meglio, funziona bene se vi andate a farci mangiare bene. Ora, da 40 anni di biologismo bioetico, dobbiamo correre alle scelte ricche, medicina, chimica, biologia, con le scelte soft, quelle umanistiche, con le strette abominciate a riportarci su una serie di elementi culturali. Quei visiti vi aiutano anche ad andare avanti. C'è anche il blog, in mio blog, sul giornale c'è anche il denaro. Il denaro cartaceo, il denaro informatico. Se andrà da più il denaro, uno di tutti, a sinistra ci sono i blogger. Uno dei blogger bioetiche. Mi trovate, portatevi. L'ultimo blogger che ho messo è circa le generazioni principali dei trattamenti. Per ultimo è, che cosa veramente che mi parla più per esempio a chi è così via. C'è tutte le tematiche bioetiche, stavolta dell'alimentazione, e adesso magari faccio un po' sull'alimentazione, troppo questa bella combinata con voi e i ragioni. Alcuni elementi, un medico li permette di com'è importante pensare alla bocca come l'uomo psicotica. Ecco, l'occaso e l'occaso preparato, il cosiddetto che il denaro è più preciso. E cioè, ricordiamoci che il 20% della popolazione mondiale consuma l'80% delle risorse alimentari. Quindi, noi dobbiamo disimparare a mangiare male, ma ricordiamoci che siamo quei 20% che consumano l'80%. Siamo la disuguaglianza delle scelte alimentari. La professoressa ha detto, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Canada ha bisogno di soldi. Chiediamo, ma perché di mandare un dono sul Libano non investiamo denaro pubblico per questo? Adesso, in questo istante, stiamo spendendo centinaia di milioni di euro e le bombe intelligenti per un risulto il Libano. Ce ne abbiamo dimenticati che quello ci sta da bagno e scompagno come i civici che in grado le dimagliano. C'è questo problema di mondo. Cioè, l'Occidente, che sta disimparando a mangiare le cose legare con la sua bocca, deve ricordarsi di stare nel mondo in mezzo. Nella bocca con i civici ma l'acqua. Tra tre anni, la prossima guerra mondiale, la bocca è con l'acqua. Vi troverete tutti quanti che scappate a lungo mediamente. E quindi, sull'acqua, attualmente, sapete la sua cosa che sta facendo? Sta contando i terreni in pratica. Ma come pari? I latiponti e i microponti. In pratica, perché? Chissà un po' di circolazione economica. Ricorda che il Brasile è una miniera di acqua e naturali. Comprare il Brasile terreni significa diventare il terreni. Voi sapete che faccio? Perché io non mi sono una piccola scuola in Brasile. Mi faccio un bel buco. E trovo il mio piccolo osso e me lo privatizzo. Quello è il mio. Poi me lo venderò. A voi occidentali vedete le famiglie di acqua, più di quelli che vanno nella giornata in Italia. E' un petrolio nuovo. E' un petrolio nuovo. Pochi ci mettono. Allora, c'è una bomba che ci mettono. Invecemente. E' altrimenti cominciamo a dire che non bevo più da fumiglie. Non bevo questa roba qui. Che è l'altro. E' un petrolio nuovo. E' un petrolio nuovo. E' un petrolio nuovo. E' un petrolio nuovo. E' un altro elemento. Un altro elemento. E' ancora. Se non abbiamo costruito. L'ortico scura. Invecemente. Devo stare al alimentare che chiamiamo monofulturato. E' stata dedicata a vacanze. Dicono dedicati alle regole di ecologo. Ma noi stendiamo alle monoculture. La monocultura significa che noi ciletti i grandi consumatori hanno bisogno di quelle cose. E' un altro piccolo dettaglio. Ogni stanza ci dicono che per mangiare bene dobbiamo mangiare tutti. E' giusto. E' giusto. Anche perché c'è la fame del mondo. E' giusto. Allora, che si fa per la fame del mondo? Bisogna produrre più alimenti. In base. Da esempio. Produrre più rito. Più maio. Più grano. Ecco. Sapete che cosa è successo? Che grazie alla biotecnologia. Noi sappiamo modificare geneticamente i temi di mais, di grano, di litro, di pomodoro, di patate e di chimene. Li modifichiamo e facciamo in modo che chi per vendano e non pigliano troppo e non avviene. Solo che siccome è una scoperta ci prevediamo la modificazione e poi la vendiamo sul mercato. Per cui. Io che mi chiamo per sempre Monsanto e la donna ditta di produzione di mais, quindi se l'avete modificato. Io vedo. Solo io sono il seme che non mi chiamati e particolari. Piccolo segreto. E' un seme adesso anche il secondo. Perché ogni anno, ogni semestre, deve venire da via a comprare il seme che io ho presentato. E' come per esempio qui il disuguaglianza economico-sociale vanno messo in conto cosa prendiamo davanti a un piatto o scegliamo una cosa, come anche questi aspetti di mafficazione, di simbolicità del lavoro, eccetera. Grazie mille.